ma ben a tutti ragazzi e ragazzi sono marco satisette bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui su un contenuto speciale e nuovo sul nostro canale che siamo su the higher or lower game in questo gioco diciamo che dobbiamo dire semplicemente dobbiamo fare un confronto tra due cose e devo dire se è più ricercato o meno ricercato dell'altro su internet quindi un gioco davvero davvero semplice comunque se sentite il venticello perché sono a mare iniziamo allora andiamo allora corruzione o the wind in the willows penso sia un libro quindi va di meno perfetto uno come potete vedere a destra abbiamo high score che è il miglior c'è il miglior c'è il miglior punteggio ecco e poi scorre il punteggio che stiamo facendo adesso vediamo adolf hitler ovviamente molto più ricercato un milione di ricerche più instagram ovviamente instagram 150 milioni non so cosa sia intanto siamo arrivati già a 4 scuba di bing non so di meno faccio scuba di bing ah a pari dunque cheese brown cazzo oh chris brown non cheese brown vabbè primo risultato 5 ah vabbè se esco molto di meno di hp hp è la marca dei computer il kamasutra molto di più ovviamente perché non sapessi il kamasutra sono un libro con delle posizioni in porno valliatore il kamasutra valliatore siamo già a 3 l'acne di più no vabbè va a farlo perfetto comunque ragazzi siamo a mare quindi se sentite le voci in sottofondo ovviamente sono le altre persone quindi non fateci caso il coro se ho preso un brink preso un break o brico non so ma cazzo si da penso brick outlook vabbè qua cazzo quanto quanto corte vabbè scattato allora il miglior record è stato su back maur sto cocco cocco bello cocco presto vabbè back power oppure gioco assalto o lo seri più assalto ma scherzi non è possibile allora il flauto si è perché raga io non vedo bene quindi non so flute si flauto o timer timer ovviamente 100 miliardi di volte dottor dottor strange o timer australia no per una dottor strange australia no per colosso i donno vado non lo so ma metto di meno perfetto vabbè wikipedia molto di più siamo 13 milioni ecce ma non so cosa sia però nuova nuova zelanda di più uguale fortuna da me noi era di meno di un milione e duecento meccanico noi cani uganda what is uganda ci sono i semi di cocco no cocco no semi di chia forse uganda vabbè uganda addio allora siamo arrivati a 11 la ford ovviamente dai 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 signori nhs di cazzo è una cazzo border colli no il cane vabbè vabbè è caduta una secca around the world vabbè giochiamo un nuovo po andiamo Brasile o il cappa due il cappa due cioè tutta la vita ottimo iniziamo benissimo perfetto finlandia o colombia colombia perché all the channel marine reserve di meno infatti cazzo la conosci la cattedrale di più si madonna l'aurora molti di più arizona di più oh 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 allora ragazzi sono arrivati a 5 minuti di video allora lisbona o mila o breach penso porco cane ops sorry bro allora uzbekistan o brandenburg gate oh cazzo ehm scusate se ogni tanto mi parte una parolaccia perché volano sedie perché c'è un sacco di vento oggi diciamo di più perfetto siamo a 2 il miglior record qui è 4 prima era 11 vabbè it works almeno 210 bravi proprio l'arco di triomphe dal de triomphe l'isola di ghiaccio io direi proprio l'isola di ghiaccio eh vado un milione e 800 mianmar a basso vai vai che ci ho preso la mano wailing wall il muro non lo so forse è la caduta del muro vabbè di più ma vaffanculo come ho detto ci ho preso la mano perché parlo perché allora los angelo e sud africa sud africa los angelo ale alzalo vabbè allora scusate un attimo però devo fare una cosa allora washington o sud africa vabbè washington no faccio cacare a sto gioco vabbè aspetta che andiamo no 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 ok ok andiamo su musia vai no cavolo quindi devo arrivare a 10 al classico per sbloccare il pacchetto ok l'albero genealogico o mark zuckerberg grazie ale sì comunque oh murigno o l'albero genealogico beh io direvo murigno ok senegal di meno o di più di murigno di meno sì perfetto ok basta non ti chiedo più consigli è una guerra penso di meno sì ragazzi scusate se dico una guerra penso perché non si vede l'immagine perché non boh non cioè non boh non lo so perché un po' di più l'algeria l'algeria ragazzo marvin gai di poco o hanno messo il film no cosa dai non è possibile se il decilio così po' di peccato faccio il decilio comunque ragazzi fate questo donate a save the children donate coreca 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 feste sudafrica siiii è il tuo giorno ovviamente cosa scusate se è arrivato un piccolo messaggio ho sbagliato ottimo faccio completamente schifo sto gioco ottimo vola ciclone di meno c'è Trump travesione va dai dai quando stanno si tratta di queste cose nel nintendo però c'è un bambino che si sta schiaffeggiando che c***o cosa profiterol testori ciò c***o solo madonna colosso biancé allora doritos ragazzi siamo a 12 in Giappone di più ok siamo a 13 andiamo provi di meno vai superato il record andiamo in Giappone 16 di più vai vai no 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 andiamo avanti raga grande genio perfetto dai ragazzi abbiamo superato i 10 minuti andrei the giant di meno di meno di meno bitcoin quanti karate sempre di meno barcelona di più ragazzi siamo al 23 fruit ninja di più ho sbagliato si abbiamo sbloccato l'altro pacchetto american football mi vai facciamoci una partita e poi basta sanford cardinal di più stiamo parlando di football io non me ne intendo vai facciamo tre tentativi il secondo tentativo un po' come va sbagliato di nuovo cazzo terzo ok abbiamo superato il record no perfetto basta abbiamo finito signori faccio completamente schifo quindi con questa schermata vi saluto oh bello dobbiamo sbloccare questo ragazzi dobbiamo comprarlo però ecco allora analizziamo un attimo i pacchi allora qui vediamo quello lì delle persone famose 30 per questo gratis poi vediamo un po' questo dei giochi 30 anche questo e le grandi domande 30 anche questo altrimenti 1 euro 69 ovviamente io non pago quindi arriveremo a 30 quindi questo qua sarà il primo episodio di una serie quindi niente con questa schermata vi lascio e niente ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti